I litigi del PD stanno tenendo in ostaggio tutta l'Italia a partire dalle imprese. L'unica riforma del lavoro possibile per far ripartire l'economia è il dimezzamento delle tasse con un'aliquota fiscale unica, secca, semplice, del 15% uguale per tutte le famiglie e per tutte le imprese. Il resto, dal Jobs Act all'articolo 18, è solo fumo.